Ciao a tutti, sono Alberto, un pianista professionista e uno studente di ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano. Suono da quando avevo quattro anni e qui sotto vi voglio lasciare una mia short bio in descrizione. Ho deciso di aprire questo canale YouTube per condividere con voi sia classici masterpieces, tratti dal mio repertorio di musica classica, che alcuni arrangiamenti per pianoforte di canzoni moderne delle quali molti miei amici mi hanno chiesto. Spero quindi vi piaccia la mia musica e vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube e a seguirmi nelle pagine Facebook e Instagram. Un abbraccio a tutti, a presto!